Niente da fare, alla fine la pioggia ha avuto la meglio, ma si tratta solo di attendere una settimana. Il processo alla vecia di metà quaresima a Ponte Dante è dunque solamente rinviato. Le previsioni meteo hanno indotto gli organizzatori del gruppo folcloristico trevigiano ad annullare l'evento di questa sera e a rinviarlo a giovedì 14 marzo, quando l'altalena del maltempo che sta accompagnando la marca e il Veneto da giorni dovrebbe essere ormai alle spalle. E con l'evento anche la diretta di Antena 3 è dunque solamente rinviata. Giovedì prossimo le nostre telecamere saranno puntuali in riba al Sile per trasmettere il divertente processo alla duchessa Marietta Marinaio e alle sue tante promesse non mantenute. Si parli di smog, bollette alle stelle o liste d'attesa in sanità, di cui dovrà rispondere l'omonima del sindaco, anche se la condanna finale è scontata. Saranno i sub del gruppo sommozzatori ad accendere con le fiaccole il rogo del fantoccio sospeso sulle acque del fiume lungo Riviera Santa Margherita sotto gli occhi di grandi e piccini.